Per gli amici di canale 8 da Giovanni Messina e da tutto l'asqua 2000 tantissimi auguri a tutti gli sportivi che ci sono Buon Natale, buone feste, ciao Auguri, buon Natale, buon anno a tutti i tre spettatori In qualità di Presidente del Volle cittadini Ficarazzi auguro a tutta la redazione di Passione Sport un sereno Natale e un felice anno nuovo Auguri a Natale, buon anno a tutti i tre spettatori Buon Natale, buon anno a tutti i tre spettatori Che sia un Buon Natale e soprattutto un 2014 denso di soddisfazione Buon Natale e felice anno nuovo alla Commissione Passione Sport Da Passione Sport a tutti i tre spettatori di Canale 8 Un augurio di Buon Natale e soprattutto di Buon Anno da Giuseppe Buon anno, auguri Grazie a tutti i tre spettatori di Canale